Ciao a tutti ragazzi bentornati in questo nuovo video sul mio canale youtube come avete già letto al titolo oggi vi parlo del prepartita di Brescia-Cosenza allora mi aspetto una partita sicuramente molto combattuta spero che venga il Cosenza specialmente dopo la vittoria contro il Chievo dobbiamo assolutamente vincere perché il Brescia è un punto sopra di noi sicuramente vorranno fare anche loro una bella vittoria anche se si pensava arrivasse il playoff invece stanno lottando per non andare in G però questo non esclude una possibile vittoria del Brescia speriamo nel Cosenza, speriamo che ci siano altri risultati come questi purtroppo come vi ho già detto amare in bocca per la sfida contro il Lecce ma ormai è passato, dobbiamo guardare al futuro e speriamo per la partita di domani sera dai ci vediamo in un prossimo video attivate la campanella, iscrivetevi per rimanere aggiornati sui video che usciranno a breve e niente, bella ragazzi